Bandai Namco torna a stuzzicare i palati di tutti i fan del figlio prediletto di Akira Toriyama, o almeno di tutti quelli che non disdegnano lanciarsi in furiose battaglie impugnando anche un controller. Il publisher giapponese ha infatti rilasciato un nuovo trailer per il suo Dragon Ball Figures, picchi a duro dei Saiyan in uscita il 26 gennaio 2018 su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Il filmato, visibile cliccando sul tasto Play poco più in basso, porta nelle arene del videogame sviluppato da Arc System Works il potentissimo Black Goku, accompagnato da Beerus e It. La versione oscura di Goku potrà utilizzare l'attacco Work of the Gods. Beerus avrà a disposizione gli attacchi God of Destruction Seyutgment e Sphere of Destruction, mentre It potrà stordire e disorientare gli avversari con la supermossa e i continue to Grove. Non solo, Black Goku potrà contare sull'assistenza in battaglia di un personaggio d'eccezione, Zamasu, che si occuperà di tenere fermo l'avversario mentre lancia una onda energetica. La lama del ki e la falce saranno invece utilissime per gli attacchi a distanza. Beerus è il dio della distruzione del settimo universo, ed il suo attacco Sfera della Distruzione è grado di esplodere al contatto con il nemico causando un grande quantitativo di danni. It può invece fermare il tempo e colpire il nemico ripetutamente, oltre a poter sfruttare un'abilità che li consente di contrattaccare in maniera automatica l'avversario mentre si difende. E voi, siete pronti a combattere?